Quali sono i vostri piani per il futuro? Uno è certamente continuare a crescere, aumentare l'offerta dei prodotti e continuare ad offrire una linea di prodotti che va dalle versioni base all'alta gamma. Poi vogliamo estendere la nostra piattaforma di integrazione così che sia sempre più facile per qualcuno raggiungere tutti i sistemi che sono sulla nostra piattaforma, concentrandoci sia sulla merce che sul cliente. Questo dal punto di vista del prodotto. Dal punto di vista azientale stiamo investendo sempre più nel settore vendita, assicurandoci di avere le persone giuste nelle giuste aree geografiche, per aiutare i nostri partner e facendo in modo di avere le figure adeguate che possano sostenere tutto il sistema in questo comparto. Perciò stiamo investendo tanto per essere pronti quando qualcuno richiede la nostra presenza.